Mimosa ma anche musica per dire no alla violenza di genere con la nuova fase del progetto Mai in silenzio della regione toscana e dell'emittente radiofonica Controradio che nel giorno della festa della donna hanno presentato il concorso a tema che invita i musicisti under 35 toscani a scrivere e interpretare un brano originale in italiano sul tema della violenza e del rapporto tra i sessi, in giuria artisti d'eccezione come Irene Grandi, Dario Brunori, Tommaso Novi, Francesco Guasti e Diana Winter. Questo progetto è finalizzato proprio a far riflettere i giovani con la musica che è uno strumento molto importante che fa parte della loro vita quotidiana. Ai primi tre classificati come per Toscana Cento Band un premio da 1000 a 3000 euro per realizzare un progetto artistico, il passaggio dei brani in radio e sulle piattaforme digitali e la possibilità di esibirsi il prossimo dicembre al meeting dei diritti umani davanti a 8000 studenti a Firenze ma soprattutto l'occasione di usare il linguaggio della musica per affrontare temi sociali. Sicuramente la condivisione, il dialogo tra musicisti, tra ragazzi, far sentire le proprie cose, non vergognarsi è un primo step e magari avere l'occasione di parlare con persone che magari ti danno qualche indicazione sulla poetica, su come mettere una cosa quotidiana su un pensiero più teorico, lavorare sul suono delle parole è certamente un modo per crescere. Il concorso è una nuova fase del progetto Mai in silenzio che ha già coinvolto 70 studenti di 6 scuole superiori toscane che hanno realizzato un CD con 6 canzoni originali presentato a dicembre. Per me è un Mai in silenzio 2.0, è un continuo del progetto che mi aveva visto partecipare poco fa, qualche mese fa, quindi è un piacere poter aprire anche a tanti altri musicisti che con la musica si esprimono, la musica arrivano alle persone e quindi hanno modo di mettere in musica e parole un messaggio così importante. Ora c'è tempo fino all'8 maggio per iscriversi al concorso Mai in silenzio e contribuire con note, musica e parole a contrastare la piaga sociale della violenza.